e benvenuti amici di youtube io sono l'UNAX100G sono qui so fare i minigame di Mineplex e poi dico no dai io non gioco e sono in compagnia di Master X Z alfabeto ragazzi puoi partireci un po' sui minigame di Mineplex che squadra sei? gialla adesso ragazzi faremo un po' di guli a Master mi gusta ecco ti sei con tre pecore oddio tre pecore tengo brutta merda sei una merda muore non mi fai niente del mio campo muore vorrei sapere perchè laggo da quando mi sarei avviato il gioco non me ne frega delitosi spacchiamo i guli ora noi sono primo ero primo qualcosa primi dai ok ho ucciso uno solo ho ucciso due dove scappi non lo fatelo avvicinare no 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 mi scatta mi scatta mi interessa un cazzo di te ma sono morto? ah non ero morto non ero nemmeno morto non ci credo ok devo capire perchè mi scatta ho dovuto anche riavviare il modem per entrare nel set quel che pezzi di merda se avete più robe di tutte andate a prendere a noi oddio siamo ultimi sei tu quello che sei fottuto le pecore no non sono stato io lasciami stare no grandissimi gialli grandissimi gialli mi fotte le tue pecore non è vero scherzavo ovviamente ma che merda fregatela il blu no il blu è vero il blu ho killato io ho killato tutte e due che tu sia maledetto masterix un giorno morirai no no non li avrai no fermiamola grandissimi devo aspettare che moriate tutti prima ma guarda che pezzo di merda non la va a fregare al blu la va a fregare a noi ma tutti da noi ma un animo che facciamo così la coalizione dai tutti dal blu intanto uccido questo giallo che ora ci ha fregato due pecore il pezzo di merda e tu non venirla a prendere da noi non voglio niente non voglio niente no no che pezzo di merda odio questo minigame dai bravo bravo vi avranno fregato un casino di pecore che fai? che fai? vai si ritorna a casa bella dai dai spacchiamo un po' di guli spacchiamo un po' di guli ok siamo siamo prima a fare merito eh ma se siamo nei gialli ah è vero che si è ma perchè vi avevano fregato un casino di pecore ma che infami in due contro uno dove sei? dove sei? oh sei? ok io difendo io difendo che sega non ci credo ci fottono le pecore io li spacco dove dove dai? tipo adesso le persone che odiano le mie strategie non ci credo mettete mi piace ditemi cosa devo fare spacco il culo ho tirato i tuoi ho tirato i tuoi no no ok in una rift ti ho visto entrare sotto il pavimento non ci credo sei una fottutissima merda pro play allora è tutto in difesa dai vado a fregarla ai blu quasi dai quasi quasi dai guarda questo con l'arco che infame e mi picchia con la spada in pietra c'ha l'arco e mi picchia con la spada in pietra è rimasto uno solo è rimasto uno solo e vabbè però vabbè due contro un grazie al cazzo ah 50 secondi allora io mi sa che difenderò ti difendo vai oppure va oh andiamo tutti sui blu tanto i verdi sono a difendere quindi è impossibile che ci prendiate qualcosa dai i blu non c'è nessuno dentro non c'è nessuno dentro li ho fotti tutte non riesco a fottrli eh stanno arrivando i verdi stanno arrivando i verdi cazzo questi fanno male i verdi no no oh vai sul blu vai sul blu che almeno se deve vincere qualcuno vinciamo noi non sui verdi ma sei una merda guarda i blu che merda li stanno prendendo quelle neutrali 3 secondi 2 1 hanno vinto i blu su 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 chiamalo su 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 ok ragazzi adesso devo partire il ultimo game il master fa schifo perde sempre e voglio voglio dislike vai fai schifoooo voglio voglio dislike sotto il video perchè Lunarix poteva far vincere uno di noi due e ha fatto vincere i blu cioè i blu che ero io su ok vuoi dire il prossimo è one in the quiver ovvero un colpo in canna avremo a disposizione un arco che è one shot se non mi sbaglio sì che eh sì il primo che arriva a 20 kill vince vai vai ragazzi via ok fuori uno chi mi ha ucciso? eeeh cannielle oddio no ti volevo cecchinare col cazzo non ci credo no dai come prima dai non c'è danno alla caduta ho notato tu ero solo la caduta dai ragazzi se parla buono perché è mezzanotte cazzaro le mie dormono no vabbè sei tranquillo che ti si sente mi stai rompendo le orecchie ok fuori uno no ti ho ucciso ti ho ucciso no non mi hai killato a me no no ti ho killato you kill the lunatics 100 with archery no è vero brutta merda non ti ho aiuto da uno come segno di ringraziamento ti killerò non ci credo ok ragazzi vedo un master selvatico vedo un master selvatico vedo un master selvatico vedo un master selvatico e l'ho perso non lo devi ti stavo mirando sei entrato in casa ti stavo mirando e sei entrato in casa sarebbe stato troppo bello se qualcuno nei commenti posso può come dire suggerire un server premium con giochi tnt diciamo tnt run tnt tag ragazzi non molto tardi apriremo un server ragazzi venite in tanti nel nostro server mindplex farà schifo rispetto al nostro forse non ok basta ok è un po' di sponsorizzazione sicura sponsorizzazione con i tuoi? quanti iscritti? 150 ancora oddio 150 persone cioè altro che mindplex da 23.000 950 spacchiamo i c***i ragazzi comunque come se iscritti privati è perché per le persone si impressionano dagli iscritti e poi non si iscrivano nei canali perciò fan c***o agli iscritti per forze canale sinceramente io chi ha chi ha gli iscritti non visibili e i commenti non visibili non mi iscrivo cioè del tipo guardo un tutorial su internet con i con i commenti disabilitati dico don perché l'ho messo disabilitato ma che c'è zecca no mo con i disabilitati con i video eh? dipende prendi un tutorial su come fare una certa cosa che diciamo oddio è l'unico che ho trovato in rete non è che ci credi va bene muori master muori brutto muori brutto nooo ha finito la partita dannazione che schifo 5 kill dai ragazzi aspetta ho fatto 6 kill ti ho superato che c***o solo perché li sto reccando eh li sto reccando i reccazzurri hanno sempre sfortuna quando 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 devono guandare cosa eeeh io ho visto c***o c***o dragon escape ok noi facciamo c***o Noo eh guarda la mappa ok ragazzi siamo sul minigame di oh mio dio non mi ricordo i nome ma è cioè si e' morti tutti si e' morti tutti ha tirato la lagazza si è morti quanti 1 2 3 4 5 6 7 nooooo vabbè tre due 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 questi minigame, ma adesso io vi dimostrerò che sono forte e che master è scarso ok io non so che team ho scelto che team sei te? io team qualcosa io team rosso, mi scelgo ok rosso, rosso nel cuore che fa il mio siamo tutti su rosso ah perché io l'ho le stesse serie ho 16 anni ok ragazzi, rieccoci qua con l'ultimo minigame di questa giornata ragazzi voglio un minimo 10 mi piace per il prossimo video iscrivetevi pure al canale di master che metterò in descrizione mi raccomando ho due video, si iscrivetevi perché i video li ha fatti con me oddio guarda sono fatti con lui proprio non ve li potete perdere se non fai video con me non sei nessuno con i tuoi quanti iscritti scusami 150 succhiamelo no, no, sta liberando tutti ok, uccisi curatemi c'è una fondomappa sono curato oh, vieni al lato sinistro lato sinistro della mappa curami cazzo ucciso tutti ho fatto quasi tutta la squadra forse dire che è l'ultimo minigame meglio di no andiamo con il prossimo ma blobers adesso si è che è il momento di far esplodere qualche TNT che squadra sei? russi hai il blu ma ci dimentichiamo sempre di settare le squadre è fotte sega un po' di competizione non fa mai male oh merda via ok, non ti vedo in mezzo a tutto sto casino ecco ti, ecco ti ti ho visto io mi riuso solo a te, va ma sei una merda che quello in video deve morire no quello che fa il video deve morire no no merda mezzo cuore no siete una merda voi blu il blu è il colore che fa scherzo sono morto prima di te che bello che grazie a Dio non sto registrando io perché non so che ha oggi il mio pc no, sei un noioso del caso oddio, dei rossi ma ce l'è soltanto uno e non morire nooo master staggara cazzo muahahahah scelta la squadra giusta ragazzi master mi è riuscito a convincere che devo piare proprio l'ultimo ma come ultimo ma come ultimo ma come ultimo ma come... basta ma come ultimo minigame del video draw my things mmm draw my things oddio oddio allora non so se dormo stanotte dopo stai ritratene qua ragazzi i draw my things non è niente di meno cioè loro ci daranno un tema con il quale noi dobbiamo costruire no è un'altra cosa quello ok spiega tu allora sapotello eh ok quello che dicevi tu era master builders questo invece è tipo pictionary vi daranno una cosa a turni una persona verrà scelta per segnare una certa cosa e la gente dovrà indovinare stiamo 2 su 8 che bello ragazzi ci sentiamo tra poco appena inizia la partita ragazzi abbiamo deciso invece di andare su master builder perché là non entrava un cazzo di cane e quindi adesso faremo qua come ultimo come ultimo come ultimo come ultimo ok posso spiegare il tema minigames questo adesso vai è quello che stava spiegando ok questo era quello che stava spiegando lui danno un tema è king le si ok penso che sarà difficile molto cazzo cazzo ok io forse ho già capito se mettono a tenete appena arrivano faccio esplodere tutto oh mio dio ok abbiamo 5 minuti di tempo per costruire quello che ci dicono di costruire appunto ma se io faccio un lumino stilizzato tipo quella è una mia idea io faccio eh sto scherzando ragazzi non non guardatevi potreste morire oh mio dio ovviamente noi ragazzi ci metteremo anzi noi non ci diremo proprio quali sono i nostri disegni vuoi disegni eh sono costruzioni però va bene ma eh vabbè questi sono disegni perché oh mio dio un cappello si è mezzanotte in mezzo non riesco a parlare non ho dormito ragazzi mettete un like mettete un like per il povero master che non riesce a dormire dai diamond madonna dai dai che ce la faccio dai dai non puoi capire cosa sto facendo proprio lo chic dello chic guarda mamma mia non puoi capire sono il re cioè io io non riesco a fare il mio sembra un tizio storpio ragazzi ma non potete capire cosa sto facendo io sono in regola di costruzione in tutto il mondo io sono mondiale ok mi di mi aiuti un secondo come cazzo la faccia la corona così mi tocca fare la roba in 3d perché se no vi rimane la corona oh mio dio tu non puoi capire cosa mi sta uscendo mamma mia la bellezza ce la faccio ce la faccio ce la faccio ce la faccio ma io ho finito ma hai fatto la corona e basta per caso no no ho fatto ho fatto una roba epica è uno schifo è uno schifo ti faccio il troppo però no allora noi non dovremmo sapere allora massimo per darci un segno dovremmo ridere proprio ma proprio ho paura di sapere guarda è meglio guarda il mio fa schifo facciamo che faccia una serie e basta la faccio il culo diciamo che il mio è proprio ma non puoi capire cosa sta facendo è la bellezza di un re proprio re artù sta facendo e adesso non puoi niente di meno uscire la faccia il collo ma ci mettiamo stai facendo uno stilizzato vero che merda mi copia ragazzi mamma mia questo è lo slenderman red 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 ok la mia fa schifo adesso ragazzi prendete esempio da me guardate la miglior corona del mondo senti se vedi la mia cioè impalidisci ragazzi io qua questa è di sicuro la mia migliore opera ecco sono neppure di spare la testa mamma mia e adesso la parte finale voglio dire un poco di allargarlo di uno dai non è malaccio quando merda 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 30 secondi 30 secondi dai devo fare tu con la ragazza di cane 1 2 2 3 4 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 9 11 11 11 11 12 12 12 12 12 11 12 14 13 14 15 15 15 15 16 16 Kilt by... Che cazzo è? Che cos'è? Ma cosa è proprio il marzo dei finti? Cosa cazzo è? Oddio ma questo è... Oh mio dio! Si è esploso! Questo gli do... Questo gli do un good Vai Cioè la faccia proprio fiera dai Oddio, io aspetto che venga il mio Io devo andare a dormire nel frattempo Che cazzo è questo? Non lo so che gli do va Cos'è qui? Oh i nostri votiamo lì massimo eh Vai questo... io gli do un good dai Che cazzo è? E' tuo? E' tuo? E' tuo? E' tuo? E' tuo? E' tuo? E' il runaris 100 Questo che c'è in mano, un dildo E' tu? Questo che c'è in mano un dildo Guardate non ok perch' hai fatto un dildo Perch' è arancione? Cosa cazzo è? Cosa cazzo è? No, questa modalità va fatta qui qui Questo ti dà un good No, no, vabbè, dopo aver visto tutto Se non vince la mia, guarda Cioè la mia ha fatto un casino di roba Io devo proprio andare Vediamo se capisci qual è Aspetta Oddio cos'è? Cos'è sta cosa? Tu È l'omino bianco Cosa cazzo è? Cioè tecnicamente ho fatto un tizio stilizzato Le ho messo una corona, una spada, un trono No, però vota la amazing No, vota la amazing Ha vinto quello del dito Sono arrivato anche dopo Lunarix Non ci posso credere No, no, no Ok Ragazzi io direi di finire qui il video Mi raccomando iscrivetevi Se volete altri video come questi Mettete mi piace Il prossimo video dici mi piace Votate Scrivete nei commenti Hashtag Non vogliamo i dildi Ci vediamo ad un prossimo video A presto ragazzi Perché dobbiamo fermare questa campagna Diffamatoria contro gli altri lavori Che qui basta che mi dici un dildo e vinci Non è giusto Va bene A presto ragazzi Votate Hashtag master Ha fatto il migliore Devo finire Addio ragazzi Al prossimo video Presto